Quarto appuntamento con Focus Ritiro, buonasera amici sportivi, siamo pronti a raccontarvi altre news direttamente dal ritiro austriaco e lo faremo anche attraverso le parole di uno dei protagonisti giallorossi, Gabriele Moncini. Buonasera Gabriele. Buonasera, buonasera. Allora, come stanno trascorrendo questi giorni, come procede la preparazione lì in Austria? Ma dai, tutto bene, insomma, questi si sa ormai sono i giorni per mettere il carico fisico sulle gambe, quindi stiamo lavorando molto, però dai, stiamo creando un bel gruppo, siamo contenti di come stiamo lavorando e pensiamo ad andare avanti, che insomma non manca così tanto all'inizio del prossimo anno. Ecco, stiamo creando un bel gruppo, no? È un po' questo lo spirito che vi ha portato fino in Austria. Pippo Inzaghi non ha mai avuto dubbi, no? Per lui era importante passare attraverso il ritiro per affacciarsi poi alla nuova stagione. Perché? Perché lo scorso anno ha segnato un punto di svolta importantissimo. Tu chiaramente non c'eri, però lo hai sentito sicuramente dai tuoi compagni di squadra. Quanto è importante, ecco, un ritiro, la vicinanza e condividere quelle che sono le fatiche iniziali per poi gettare basi importanti, no? Per una stagione difficilissima, non prendiamoci in giro. Ma sì, il ritiro penso sia una delle tappe fondamentali di una stagione. Sappiamo tutte le problematiche che ci sono state quest'anno, però fortunatamente siamo riusciti a venire in ritiro e penso che sia una cosa fondamentale sia per il fatto che, come dicevo prima, fai il carico di lavoro e quindi ti metti quei mattoncini che poi ti ritroverai nella seconda parte del campionato e in più per creare il gruppo nuovo. Adesso che arriveranno nuovi giocatori, dobbiamo essere bravi noi a farli intregare nel gruppo e quindi stare questi giorni insieme, anche solo in albergo, mangiare insieme sono cose molto importanti. Ecco, sono arrivati Glick, Fulon, Ionita. Come si stanno inserendo? Tra l'altro abbiamo ascoltato qualche giorno fa proprio Arturo Ionita e ci ha detto che non è così difficile entrare a far parte di questo gruppo molto unito che agevola a qualsiasi inserimento. No, lo capisco perché anche io l'anno scorso quando sono arrivato a gennaio, veramente, io sono arrivato in ritiro, eravamo a Roma, nel ritiro durante la pausa natalizia, è stato semplicissimo. Quindi capisco benissimo in che situazione si trova Arturo e lo posso confermare. Questo è un gruppo di ragazzi per bene che pensano a un obiettivo comune. e devo dire che questi tre nuovi acquisti ovviamente sono dei giocatori del calibro importante e anche sotto l'aspetto umano si stanno calando benissimo nella pare. Parlando di te, sei arrivato appunto a gennaio e avevi iniziato un lavoro diverso, l'hai detto più volte anche tu, un lavoro che riguarda soprattutto la squadra, quindi non solo come prima punta ma lavorare anche per il resto della squadra, per farla salire, un tipo di lavoro diverso. Ecco, stai continuando su questa strada, ci stai lavorando molto anche in vista della Serie A e di ciò che ti chiede Pippo Enzaghi? Ma sì, come ho già detto l'anno scorso, insomma, io dovevo migliorare su alcuni punti di vista, soprattutto sul aiutare la squadra, sul venire in contro, tenere la palla, quindi abbiamo iniziato questo percorso anche perché la Serie A è diversa dalla Serie B, la prima punta, ormai la prima punta moderna, deve venire a giocare con la squadra, attaccare la profondità e fare gol, quindi insomma è un percorso che sta continuando e speriamo di far bene dai. Senti, una domanda semplice così per alleggerire l'intervista, un nuovo look? Sì, un nuovo look, volevo un po' cambiare, insomma avevo il taglio classico, poi insomma d'estate con questo caldo ho deciso di darci un taglio. Ultima news di mercato, poi dopo insomma lo affronteremo nei dettagli perché sai benissimo che i tifosi sono sempre molto attenti alle dinamiche di mercato, molto curiosi, insomma pare sia fatta per la Padula, che ne pensi? Insomma sicuramente sarà un ottimo compagno di reparto, un giocatore di esperienza, di qualità? Sicuramente per me sarà uno stimolo su tutti i punti di vista, sia per il fatto di allenarmi ancora con più printa e soprattutto per prendere delle spunte da un giocatore che comunque in Serie A adesso ha molte esperienze, quindi sarà un valore aggiunto per tutto il gruppo. Allora abbiamo saputo che il ritiro sarà prolungato fino al primo di settembre, felice di questa notizia? Ma sì, tanto è un giorno più, un giorno meno. Quali saranno ecco secondo te le difficoltà in questa Serie A? Tu comunque l'hai assaggiata con la SPAL, obiettivo salvezza, sappiamo benissimo che soprattutto per le neopromosse non è facilissimo calarsi subito, nella nuova categoria anche perché c'è tanta differenza di qualità, di agonismo tra la Serie B e la Serie A. Ecco un po' secondo il tuo punto di vista, anche la tua giovane esperienza, ma non è detto che uno non possa dire la sua, cosa servirà a questo Benevento per affrontarla al meglio sin da subito? Perché sarà importante, non so se concordi con me, partire col piede giusto. Sì, sicuramente le prime giornate del campionato sono fondamentali. La cosa che ci servirà a noi sicuramente sarà l'equilibrio, perché non dobbiamo dimenticarci il campionato l'anno scorso. Ci saranno momenti duri, difficili, dove magari non arrivano le vittorie, però per una squadra che si deve salvare è veramente la normalità, quindi dobbiamo riuscire a essere bravi, a avere dell'equilibrio, continuare a lavorare nonostante magari non arrivi i risultati. Poi ci auguriamo tutti che non ci siano sconfitte, però sarà dura e quindi dobbiamo essere bravi nell'equilibrio. Senti, ma dici un po', Pippo Enzaghi è già un martello? Eh sì, è normale. Però dai, è un po' stata l'arma in più e potrà darvi una grossa mano, anche perché è una categoria che lui conosce benissimo, sicuramente è meglio della Serie B da calciatore. Ma sicuramente, come ho detto l'anno scorso, il mister è giusto che faccia così, ancora di più quest'anno che siamo in Serie A per tenere la sticella ancora più alta. Quanta voglia c'è nel gruppo, ecco, chiaramente ancora non si parla realmente di mercato in uscita, si parla un po' di entrata, però ecco, quanta voglia c'è, soprattutto in questi giorni, di far bene, di dimostrare, ecco, che ognuno di voi è pronto per questa Serie A. È una domanda che chiedo direttamente a te, ma anche come tu la percepisci, la vivi all'interno del gruppo? Ma c'è molta voglia di dimostrare, anche perché dopo l'annata dell'anno scorso, ma soprattutto, ripeto, per il gruppo che si è creato, la maggior parte, insomma, tutti vorrebbero rimanere quest'anno e quindi stanno all'anno al massimo per dimostrare al mister che ci possono stare dentro. È ovvio che per numeri, in una squadra, ci sarà chi esce, chi entra, però comunque, questo è il bello di questo gruppo, che si vede l'attaccamento che c'è. In ogni allenamento si vede la gente che dà al 100%. Un po' per quello che sta accadendo, no? Anche in queste ultime settimane, insomma, difficilmente ci saranno le porte aperte per l'inizio del campionato, addirittura, insomma, si temeva potesse slittare la data. Ecco, molto probabilmente, i tifosi non potranno sostenere sin da subito, speriamo che possano farlo dopo, la loro squadra direttamente dagli sparti. Tu cosa ti senti di dire loro? Ecco, cosa devono aspettarsi da Gabriele Moncini? Cosa devono aspettarsi da questo Benevento? Ma allora, veramente, è una cosa che questa dispiace a me e penso che, parlando con i miei compagni, dispiace un po' a tutti, perché i tifosi fanno la differenza, durante le partite ti motivano, ti fanno dare quella cosa in più. Io vi chiedo solamente di starci vicino e che noi ci impegneremo al massimo, io e tutta la mia squadra, per levarci altre soddisfazioni perché siamo un gruppo che se lo merita. Perfetto, grazie. Grazie a Gabriele Moncini. Grazie, ciao. Grazie, grazie. Buon proseguimento. Chiaramente lì in ritiro in Austria, noi andiamo avanti con l'informazione perché c'è da parlare soprattutto di mercato. Abbiamo accennato prima con Gabriele Moncini la trattativa che riguarda la padula. È fatta oramai, manca solo l'ufficialità, domani dovrebbe esserci la firma dell'attaccante. Questa mattina è stato raggiunto l'accordo col Genova. Era da tempo oramai che vi parlavamo di questa trattativa. Il direttore sportivo Foggia la stava inseguendo da tempo. L'accordo col calciatore c'era già stato da un mesetto, però bisognava insomma limare alcuni dettagli della trattativa, soprattutto col Genova. Ricordiamo la società che ne detiene il cartellino. Il trasferimento chiaramente dovrebbe essere a titolo definitivo. Poi nella giornata di domani vi daremo tutti i dettagli, però effettivamente il calciatore oramai si può dire vestirà la maglia del Benevento per la nuova stagione. Il primo colpo in attacco, ricordiamolo dopo Glick, Fulon e Ionita, mancava l'attacco. In realtà il primo era stato quello di Remy, poi inutile ripetersi, sappiamo benissimo come la vicenda è andata a finire, però ecco sicuramente questo è un colpo importante. non sarà l'unico, non sarà l'unico perché resta aperta, apertissima la pista che porta a Gervinio, lo abbiamo sempre detto, l'uno non esclude l'altro. Il Benevento era diciamo orientato ed è orientato a prenderli entrambi. Sicuramente con la trattativa andata a buon fine per la Padula, ora Foggia potrà concentrarsi esclusivamente su Gervinio, un calciatore che ha caratteristiche diverse. Il suo arrivo era più complicato e più complicato perché è un giocatore richiesto, ricordiamolo, di proprietà del Parma, però pare che da ieri ci sia stato comunque un'accelerata molto interessante, quindi in questi prossimi giorni potrebbe arrivare anche l'ufficialità per Gervinio. Poi l'altro calciatore che interessa il Benevento, ci spostiamo più a centrocampo, e Buonaventura. Ne abbiamo parlato anche nell'ultimo appuntamento. Buonaventura in un primo momento sembrava non fosse interessato a scendere al sud, quindi a vestire la maglia del Benevento, ma semplicemente per questioni di famiglia la trattativa si è riaperta e dentro domenica dovrebbe arrivare la sua risposta definitiva. In casa Benevento sono molto fiduciosi, lo stesso Enzaghi che più volte lo ha sentito telefonicamente, lo ha corteggiato tantissimo, lo vorrebbe alla sua corte e pare veramente che ci siano grandi possibilità per avere anche Buonaventura al Benevento. Quindi sarebbero tre colpi importantissimi per un Benevento che dovrà affrontare, come abbiamo detto più volte, un campionato difficilissimo, il cui obiettivo è la salvezza iniziale. Poi si spera possa arrivare qualcosa di più, ma chiaramente come ha detto più volte Enzaghi, bisogna fare piccoli passi. Quindi è importante mantenere il gruppo saldo, quell'entusiasmo, quella voglia che hanno caratterizzato l'importante cammino in Serie B, ma bisognerà impreziosirlo con elementi di esperienza. Per questo l'intento è stato quello di non accelerare troppo. La volontà resta sempre quella di dare più possibilità a Enzaghi di gettare basi importanti in ritiro con nuovi arrivi. Ma è anche vero che non bisognerà rinunciare a quelli che inizialmente possono apparire inarrivabili e prendere magari calciatori più semplici. Quindi per questo il DS Foggia ha preferito aspettare, ha premiato questa scelta con la Padula e si spera possa arrivare lo stesso esito positivo anche per Gervinio e Buonaventura. Ma possiamo parlare attualmente di trattative molto avanzate. Arrivano news interessanti anche dal ritiro. La società fa sapere che tutti i tamponi effettuati in questi ultimi giorni hanno dato esito negativo, quindi si contano solo tre calciatori risultati positivi al Covid. E' stato sottoposto questo pomeriggio ad operazione anche Nicola Fugliola. Sapevamo benissimo che erano alle prese da tempo da subito dopo il lockdown con questo problemino che gli ha fatto saltare la fase finale del campionato. Lui che era stato un pilastro di tutta la stagione, un punto di riferimento importante a centrocampo assieme a Schiattarella e Detemai. Poi insomma con la ripresa dei campionati subito dopo il blocco Nicola Fugliola è stato sempre alle prese con un problemino che noi ha permesso di prendere parte alle ultime partite a quelle che hanno segnato la promozione del Benevento in Serie A. Un problemino che si era portato dietro anche il ritiro e insomma alla fine lo staff tecnico ha deciso per questa operazione un intervento che ci fanno sapere è riuscito perfettamente ad Isbruck nella clinica ed è un intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio sinistro quindi questa è la definizione diciamo medica dell'operazione a cui è stato sottoposto Nicola Sviola. Per quanto riguarda i tempi di recupero si parla di due mesi questo ecco è una notizia importante perché due mesi effettivamente sono tanti quindi fa pensare che probabilmente il Benevento dovrà tornare sul mercato anche a centrocampo magari per un inserimento in più proprio perché lo abbiamo detto anche con Gabriele Moncini è fondamentale partire col piede giusto e quindi ecco non con handicap avere tutti i reparti ben allestiti con giocatori di esperienza quindi insomma due mesi di recupero fanno pensare che il Benevento potrebbe voler individuare una nuova figura a centrocampo notizie positive anche perché hanno comunicato il Benevento Calcio ha ricevuto le convocazioni ufficiali da parte della Polonia per Glick e della Moldavia per Ionita ricordiamoli due nuovi acquisti del Benevento Glick lo si conosce benissimo anche perché è stato capitano del Torino un calciatore che ha dato tanto in Italia stesso discorso per Ionita due acquisti importanti di esperienza che potranno dare una grossa mano a questo Benevento un Benevento che è ancora un cantiere aperto proprio perché c'è ancora da fare qualcosina in attacco a centrocampo ma probabilmente arriverà qualcosina anche in difesa non sono escluse delle uscite in ogni reparto si parlava anche di interessamenti per calciatori come Volta da parte di altre società di B per cui non sono esclusi nuovi arrivi anche in difesa per il momento invece non si tocca quello che è il reparto portieri più volte il direttore sportivo ha detto che l'intento è quello di puntare su Montipò per la stagione in Serie A un patrimonio tra l'altro del Benevento Calcio ma che ha fatto benissimo in Serie B una crescita continua come secondo resta Manfredini quindi in questo momento insomma il reparto portieri è quello che non dovrebbe subire delle variazioni sappiamo benissimo che però le dinamiche di mercato si evolvono continuamente quindi quello che possiamo dire è che attualmente ecco tra tutti i reparti quello per cui non sta lavorando il direttore sportivo Pasquale Foggia è il reparto dei portieri tutto per questa sera noi chiaramente vi salutiamo ma vi diamo appuntamento a domani sera per altre news con altri protagonisti sempre dal ritiro austriaco grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti